Non bastasse l'umiliazione di un campionato al momento disastroso, un episodio increscioso colpisce la Chieti Calcio. Una lettera anonima contenente un proiettile è stata inviata al presidente del Stato Alizio Neroverde, Mauro Giacomini, e al tecnico Alberto Mariani. La busta gialla che li conteneva non è arrivata ai destinatari, poiché è stata intercettata dall'ufficio postale e girata alla polizia. Gli agenti della Digo si indagano per scoprire il mittente. Certo, è un ulteriore segnale dello stato di tensione che regna intorno alla Chieti Calcio, società che dalla cessione operata dall'ex presidente Bellia sta vivendo mesi di grandi tormenti, per via della forte situazione debitoria, di un numero elevato di vertenze di ex calciatori da fronteggiare ed una gestione finita in mano a persone all'apparenza per nulla legate al territorio e che amministrano la società lontano da Chieti. Peraltro uno snodo cruciale sarà la data del prossimo 5 dicembre, quando il giudice dovrà decidere sulle tre istanze fallimentari che pendono sulla Chieti Calcio, una delle quali fa riferimento all'ex vicepresidente della società neroverde, Walter Costa, che rivendica il rimborso di un prestito di circa 70.000 euro. Così gli sportivi hanno iniziato a disertare lo stadio. Gli Ultras hanno manifestato più volte la loro forte contrarietà all'attuale società, sentimento manifestato con la feroce contestazione a carico di Giacomini avvenuta ai primi di ottobre dopo il K.O. con la Fermana. Sul campo la squadra è straultima con un punto in 12 gare e rischia di essere mandata via dalle strutture di Caramanico dove i giocatori si allenano e alloggiano perché ci sono ritardi nei pagamenti. Un quadro desolante di una situazione che sembra non potersi protrarre per molto altro tempo. In attesa di ulteriori sviluppi, in qualche modo, la truppa di Mariani preparerà il match di domenica prossima all'Angelini con la San Maurese, anche se la testa dei calciatori difficilmente sarà concentrata sul campo.